Vorrei aggiungere solo che questa è la conseguenza dei loro comportamenti. Noi, anzi, anche facendo queste cose, siamo sempre più educati di noi. Siamo il frutto di quello che è loro. Vieni a rubire l'acqua della sultana! Vieni! Vieni, guarda, vai! Vieni, 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 vieni! Vieni! Vieni, vieni! Ok! Tutti i miei miei, ci siamo, ci siamo, ci siamo! Vieni! Vieni! Vieni, vieni!